Adesso parliamo di occupazione, perché scusate il gioco di parole, c'è purtroppo preoccupazione per le acciaierie di Bolzano. A febbraio del 2011 potrebbe chiudere la fonderia delle acciaierie Valbruna di Bolzano. Lo ha detto l'amministratore delegato Ernesto Amenduni nel corso di una conferenza stampa. Impossibile investire nel capoluogo, ha sottolineato, a causa dei limiti posti dalla normativa provinciale sul rumore. E se la crisi permane, non ci sarà nulla da fare. 120 posti di lavoro verranno sacrificati. Le acciaierie Valbruna, continuato dal 1995, hanno sviluppato investimenti per 85 milioni di euro, ricevuto contributi per 14,3, versato nelle casse erariali della tesoreria di Bolzano 165 milioni e pagato affitti per un totale di 17. Ma ora i reparti di fonderia e decapaggio rischiano grosso. Parole che hanno fatto salire la preoccupazione dei sindacati. I metameccanici di CGL, Cisle e Will si sono detti infatti altamente preoccupati e auspicano che l'azienda trovi altre soluzioni. Con le assemblee dei lavoratori si deciderà la strategia da attuare, è stato detto, ma resta forte la richiesta di un tavolo di confronto tra provincia, aziende e parti sociali. A Menduni si è poi detto stupito e sconcertato per le parole pronunciate dall'assessore provinciale Roberto Bizzo a sfavore della Valbruna. Preferiamo pensare, ha concluso, che Bizzo, insediato da poco, non abbia avuto il tempo di documentarsi a riguardo. Un filtro da 900...